Intanto noi passiamo alla pagina della medicina per le nuove frontiere della chirurgia in neurologia con Mello Di Costanzo. Le nuovissime tecniche laparoscopiche e robotiche per migliorare la qualità della vita post-operatoria dei pazienti anche in presenza di chirurgia demolitiva per le grandi neoplasie. Al congresso internazionale di chirurgia laparoscopica mini-invasiva all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore Roberto Sanseverino, direttore dell'unità operativa complessa di urologia nello stesso nosocomio ha illustrato queste tecniche all'avanguardia, un simposio incentrato. Sullo sviluppo e l'utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare la tecnologia in 3D per la riproduzione delle immagini e l'utilizzo di un braccio robotico a comando vocale al tavolo operatorio che ha lo scopo di semplificare il lavoro del chirurgo. Le tecniche laparoscopiche e robotiche sono molto utilizzate anche nella chirurgia della prostata nerve sparing, cioè in cui si risparmiano i nervi per cercare di mantenere una buona funzionalità sessuale, tecnica che con la migliore qualità di vita raggiunta ormai viene adoperata anche negli ultra settantenni.